Mentre Camerlata si compie un passo avanti verso il recupero dell'area ex Trevitex, con il sì della giunta al programma integrato di intervento, in Viale Varese il progetto dell'autosilio interrato rischia di venire accantonato per motivi tecnici ma soprattutto politici. Il tutto a poco più di un mese dal deposito in comune della proposta avanzata dall'impresa Idile, Nessi e Maiocchi. Proposta che ipotizza un parcheggio da 394 posti, di cui 164 in superficie e 230 interrati lungo l'asse di Viale Varese, con un investimento da 10 milioni a carico dei privati, ai quali verrebbe data in gestione l'area per 30 anni. In comune i tecnici sono al lavoro per valutare il pubblico interesse della proposta ed esprimersi sulla fattibilità, ma secondo le indiscrezioni che arrivano da Palazzo sarebbe stato chiesto ai promotori di cambiare in modo radicale il progetto, cancellando completamente i parcheggi a raso. Una modifica che di fatto rende impossibile la sostenibilità economico-finanziaria dell'opera. Con ogni probabilità di conseguenza il progetto verrà accantonato. Un'eventualità che scongiurerebbe l'ennesimo motivo di attrito all'interno della maggioranza del centro-sinistra in città. Su quest'opera infatti l'intesa non c'è, anzi molti componenti della maggioranza sono contrari per principio a un intervento lungo le mura. Impossibile trovare una mediazione, tutti lo sanno, ecco perché forse per la maggioranza sarebbe meglio lasciar cadere la questione per evitare di arrivare al voto con una crisi aperta sul tema dell'autosilo, il cui progetto insomma è destinato a tornare nel cassetto.